Domeniche sensibili è un progetto di associazione culturale Fedora, Bloom, Word Up Team. Il progetto si sviluppa su una serie di appuntamenti culturali che hanno l'obiettivo di essere accessibili e fruibili al maggior numero di persone possibili. Il secondo appuntamento si terrà domenica 14 novembre presso il Bloom di Mezzago. Dalle ore 19 alle 20 e 30 vi sarà una pericena al 100% vegetale a cura di betti taglietti. Vi lanciamo una sfida. Avete mai provato ad indovinare gli ingredienti di una ricetta affidandovi esclusivamente al gusto e al tatto? Alle ore 21 vi sarà la presentazione ed inaugurazione della mostra fotografica The On Pain and the Unspeakable sul dolore e l'indicibile. Un progetto fotografico a cura di Giulia Laddago, reso accessibile dalla presenza di un interprete lisse. All'interno di un percorso multisensoriale fatto di immagini e parole, l'autrice racconta la sua recente esperienza con un tumore al seno, alla soglia dei 30 anni. Sotto ad ogni foto troverete un QR code. Scannerizzandolo accederete all'audiodescrizione della foto e a un nuovo capitolo della storia di Giulia, leggibile anche in formato testo. Il costo per l'intera serata è di 10 euro e comprende la pericena, quindi piatto, acqua e caffè, e la mostra. Il costo dell'ingresso per la sola mostra è di 5 euro. Vi sono due modi per prenotare. Il primo è compilando il modulo a cui potete accedere cliccando sul link qui sotto, oppure inviando una mail a ass.ne.fedora.gmail.com, indicando le seguenti informazioni. Nome, cognome, contatto mail, contatto telefonico, numero di partecipanti alla pericena e l'orario di arrivo per la pericena. Per tutta la durata dell'evento sarà presente un interprete liss e personale d'accoglienza qualificato. Per ulteriori informazioni è possibile mandare una mail a ass.ne.fedora.gmail.com, oppure chiamare o mandare un messaggio a Ginevra al numero 331 76 20 578. Grazie.